Molto bene, questo era appunto Accorso di Entità, l'elicazione dei ragazzi della cooperativa Milagro. Faccio fare un po' avanti e indietro a Francesco, ma voglio che ti applaudano qui, per favore. No, 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 non abbiamo l'applauso. Grazie allora. Abbiamo incuriosito i titoli di coda del lato, quella questione. Era questione di fidanzamenti e quindi la ragazza che avete visto era bella fidanzata e quindi non poteva baciare in diretta i ragazzi. Poi anzi ho visto, se vogliamo ricordare, il vostro sito, che magari appunto può essere utile anche per chi vuole vedere le attività di cui vi occupate, i vari programmi che avete. www.milagro.it Ok, grazie ancora allora. A questo punto siamo arrivati alla fine di questa nostra ultima serata della decima mostra del Signore Indipendente. Ecco, infatti sto già iniziando a diventare triste per quest'anno, che non ritornerò al prossimo, ma vogliamo chiudere in bellezza con una commedia per sorridere un po', perché appunto sono stati i nostri dieci anni, è stata un'altra opportunità per noi. Io tra l'altro sono...